Ciao a tutti e benvenuti anche questa sera in un nuovo video nel quale credo che mi vediate particolarmente entusiasta e lo sono, nel senso che almeno oggi posso darvi una bella notizia ed è che il tocilizumab, detto anche noto come il farmaco antiartrite, effettivamente sembra che funzioni e no, lo dico, sono così entusiasta perché comunque sia in un certo modo questo successo, questo risultato lo vedo anche come un piccolo successo personale adesso non voglio ovviamente prendermi i meriti che non ho però almeno vi spiego un attimino come è nata poi tutta la storia insomma come forse voi sapete questo farmaco era stato, non ho inventato io ovviamente assolutamente, né sono io che l'ho impiegato sui pazienti però questo farmaco insomma veniva utilizzato anche in Cina dove avevano fatto un protocollo per la cura dei pazienti con questo tocilizumab in Italia l'università di Napoli aveva utilizzato questo farmaco e l'aveva studiato, l'aveva utilizzato su due pazienti che effettivamente sono migliorati e io credo di aver fatto quello che dovrebbe fare un qualunque medico cioè allora io ho una base ovviamente di immunologia ho una base di patologia clinica e allora cosa ho fatto però? chiaro che non sono a livello di un virologo, non sono a livello di un immunologo quindi dopo aver letto la notizia di questi due pazienti che sono migliorati a Napoli cosa ho fatto? mi sono andato a riguardare un pochettino bene effettivamente il meccanismo d'azione del farmaco e effettivamente come funziona la reazione del sistema immunitario in certe situazioni e allora mi sono convinto effettivamente che potesse funzionare allora ho avuto la fortuna in questo caso di trovare come sponda, come interlocutore la senatrice Laura Garavini che ecco forse è uno dei pochi esponenti politici che in questo momento veramente ha sempre tenuto il timore nella direzione giusta si è sempre, devo dire, ha fatto veramente quello che noi tutti chiamiamo la politica al servizio dei cittadini e l'ho convinta dopo circa 40 minuti di discussione telefonica spiegando il perché e il per come l'ho convinta della bontà dell'idea cosa ha fatto? lei è andata a fare pressioni ovviamente al ministro Speranza e nel giro di un paio di giorni si è ottenuta l'approvazione da parte dell'AIFA del protocollo di ricerca e eccoci, adesso è stato ovviamente utilizzato in più centri italiani e l'Università di Brescia ha proprio annunciato che su 100 pazienti trattati ben 77 hanno avuto dei miglioramenti grazie al Tocilipum e devo dire anche che sembra veramente tutto un pochettino un caso nel senso che io ho studiato a Brescia, forse non lo sapete ma comunque mi sono laureato e ho seguito la scuola di specialità a Brescia dove adesso è stato pubblicato questo articolo adesso abito a Basilea dove ha sede l'azienda che produce questo farmaco poi appunto mi sono impegnato anche io ma io ho fatto soltanto la prima parte comunque sia per permettere l'utilizzo di questo farmaco nelle terapie intensive per cui insomma, ecco è un momento in cui sono abbastanza contento ecco, mi spiego velocemente di nuovo come funziona allora, questo è un farmaco che blocca una delle componenti delle reazioni iperimmuni è una di queste sostanze si chiama interleukina 6 comunque viene prodotta dal sistema immunitario in grande quantità per sostenere l'infiammazione in corso di gravi infezioni però, ecco, come avevo spiegato questa iperattivazione del sistema immunitario crea parecchi danni anche al tessuto sano e quindi era anche responsabile da una parte delle alterazioni polmonari e dall'altra anche verosimilmente delle alterazioni trombotiche quindi i coaguli di sangue che si formano molto più facilmente quando queste infezioni grosse creano queste reazioni abnormi nel sistema immunitario e cosa fa il tocilizumam? in pratica come si può definire modula l'attività del sistema immunitario riducendone l'attività quella dannosa quindi lo mantiene comunque efficiente ma evita che l'iperattività del sistema immunitario vada a creare problemi al tessuto sano e come dicevo appunto 77 pazienti su 100 hanno avuto un miglioramento della loro condizione dopo la sua amministrazione di tocilizumam quindi è vero che dobbiamo sempre tenere in conto che se il 77% ha risposto vuol dire che il 23% non ha risposto quindi chiaro che non siamo di fronte al farmaco che salva tutti però è comunque un ottimo segnale il fatto che effettivamente in molti pazienti abbia funzionato ecco ed è una speranza anche ovviamente per il futuro visto che non mi aspetto che i pazienti non si ammalino più nel giro di poco per cui nel caso in cui davvero un paziente avesse sintomi effettivamente questa terapia potrebbe davvero salvargli la vita ecco questo era il piccolo aggiornamento sul tocilizumab per il resto se avete domande come sempre fatemi sapere e alla prossima buona serata ciao ciao ciao